Amici di Youtube, ben trovati da Marco Ligori, in questo video parliamo di un grave lutto per il mondo del cinema, ci lascia il famoso attore, prima di saperne di più vi ricordo che a 200 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video, il 22 dicembre 2022 è stata una giornata nefasta per il mondo del cinema, a soli 58 anni ci ha lasciato un attore molto popolare, sia per quanto riguarda i film che le serie tv, stiamo parlando del 58enne attore britannico, Ronan Wiebert, per chi non lo conoscesse o semplicemente per chi non lo ricordasse, diciamo che Ronan Wiebert ha partecipato al film Saving, Mr. Banks e ha interpretato Giovanni Sforza nella serie tv, I Borgia, Ronan Wiebert è stato stroncato da una malattia e ci ha lasciato il 22 dicembre 2022, il secondo me di Marco Ligori ricorda un bravo attore, Ronan Wiebert, scomparso all'età di 58 anni. Amici di Youtube, vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video.